Bruni bentornati in questo nuovo episodio della Steamcraft, come state amici? Spero tutto bene, oggi vi devo dire una cosa, ho lasciato la shulker che c'era qua in giro raga, con tutte le robe preziose, ho veramente rischiato che mi rubassero tutto il mio ben di dio che ho qua dentro. Ad ogni modo, oggi ragazzi voglio andare un pochettino a completare il nostro caro progetto del monumento oceanico, perché vi sta piacendo un sacco e volevo fare anche magari un passaggio nel nether per cercare di fare almeno un paio di blocchi di netherite, sarà difficile? Assolutamente sì, perché come ben sapete due blocchi sono, bisogna fare 9x4 per ogni blocco, quindi 9x4 scrap, sono 36 scrap per ogni blocco, quindi sarà veramente difficile, ma noi ci proveremo assolutamente. Prima però, ho visto che c'è nico nel server, voglio andare un attimino a spiarlo, vediamo un pochettino se sta facendo qualcosa di bello o di brutto, non lo so. Allora intanto qua ho anche un sospitolo da mettere via, questa lanterna qua la vado ad appoggiare momentaneamente in un posto in cui si può appendere, tipo qua mi sembra l'ideale, mi sembra perfetto. Carissimo nico, eccolo qua, guarda che carina casa sua, bella, nell'angolino, azzurrina, con l'endermennino, ah ecco perché endermite, per questa cosa qua. Ah, ah, e vabbè raga, dovevo arrivarci prima o poi in qualche modo, ciao nico, ciao, non c'è, non c'è nessuno in casa, per Messico, salve, c'è Daphne, parliamo con Daphne. Buongiorno nico, ah no, tu sei Marci, beh giustamente sono io, buongiorno marci, come stai, aspettavo nico per dargli un nuovo crafting, ti sei trasferito qui da nico? Ovviamente sì, interessante, allora posso dare a te il crafting che devo dare a lui, sentiti direttamente con lui, io vado a sbrigare delle altre faccende. Grazie mille, penso che questa cosa non doveva succedere, probabilmente devo avvisare i nico che gli ho rubato un crafting, aiuto, mi sa che mi sono mischiati in quella cosa che non dovevo, nico, nico sta, e, e, dove è? Dove cavolo è ragazzi? Ho fatto una cavolata, vero? Sì, probabilmente ho fatto una grande cavolata e adesso me ne pentirò di questa azione, ma qua c'è un'altra stanza come da me, e, raga, non, vabbè, a questo punto lo facciamo, vediamo che cos'è, nico, ci sei? Non è a casa, molto bene, vabbè, a sto punto, che vi devo dire, torno a casa e capisco un attimino che cosa devo fare, cioè, vabbè, faccio sto crafting, beh, mi sembra che questi due item qui ce li ho, mi manca però chiaramente il ferro, il ferro, raga, potrei andare a prendere la farm di ferro, però mi avete detto che le cose di questa zona qua non devo utilizzare neanche le farm, e quindi, io, bravo come sono, assolutamente non andrò a prendere il ferro nella farm, però voglio andare in caverna, e l'ingresso della caverna è di qua. One, no, questo non doveva accadere, non doveva accadere questa cosa qua, aspetta, fammi cambiare, due, tre, quanti sono già, ne ho già tre, quattro, aspetta, non veniva beccato da fortuna questo qua, e mi sa di no, raga, o forse sì, ma di poco, non ne ho la minima idea, io però, ferro, ecco, qua ce n'è ancora, stavo dicendo, ferro qua, se ne trova poco, invece no, vediamo, uno, quanti me ne dà? Questo, me ne ha dati quattro, ok, penso che fortuna funzioni su questa roba, diciotto, per fare l'anvil me ne servono tre blocchi più quattro, quindi nove per tre, ventisette, più quattro, trentuno pezzi mi servono di ferro per fare questa cosa. Ok, direi poco Mario, non mi sembra così male come cosa, quindi cerchiamo di beccare gli ultimi pezzini di ferro, ma sapete che in realtà mi piace andare a prendere il ferro così, riprendere gli oggetti, riprendere gli item, mi piace tantissimo. Un pezzo, due pezzi, evviva, siamo a 23, questi qui sono un po' in altino, aspetta che cerco di andare, ah, ce ne sono anche lì, ma quanto è piena questa zona qua, eh, ce n'è un botto, c'è veramente tantissima roba, ok, fammi prendere tutto quello che mi rimane e ci siamo. Peraltro vi devo raccontare una cosa, ma sapete che l'altro giorno stavo camminando in giro per Milano perché ero allo stadio e sentivo sto ragazzino che parlava di Minecraft, no, diceva, ah, ma sai, papà, l'altro giorno ho giocato a Minecraft, è veramente bello come gioco, mi sta sprizzando la creatività e mi ricordo che suo padre gli fa, finalmente hai trovato un gioco dove non devi ammazzare le persone e lui praticamente gli risponde dicendogli, Ma no, papà, non devo ammazzare le persone, devo ammazzare tutti i mostri, gli animali e posso farmi le farm di pecore e mucche da ammazzare così ho cibo infinito, bene, fa, bene, hai trovato un altro gioco che non è adatto a te e mi ha fatto ridere questa cosa perché alla fine, cioè, non era, boh, mi ha fatto ridere, è stato molto interessante sentire sta conversione, voi direte, Marci, ma origli le conversazioni altrui, no, in realtà no, eravamo in fila assieme e non, cioè, non è che poto mettermi così, quindi, vabbè, vabbè, torniamo, oh, ne ho 51, possiamo tornare Su, avrà finito finalmente la fornace, oh, mi sono perso, avrà finito finalmente la fornace di cuoce il ferro, sì, peraltro non so se vi ricordate ma c'era un bug che faceva dire questa roba è già cotta e questo, cioè, che tipo continuasse ad andare all'infinito e ora non c'era più, che palle, era bellissimo, vabbè, la crafting però io ovviamente in casa non ce l'ho, quindi me la vado a prendere fuori e me la porto in casa nel chilling, allora, eh, aspetta un attimino che la prendo, eccola qua, Prendiamo la crafting, la mettiamo subito nell'inventario veloce e ce la mettiamo in un posto dove ci piace, esempio, non ne ho idea, è sempre in cucina qua, raga, guardate qua, qui è perfetta, guarda, qui è perfetta Allora, questo crafting di Niko come si fa? Con due gemmine, due stick e quella roba lì, bene, la gemmina di Niko dovrei avercela perché tanto in quel mondo lì io le ho prese, eccole qua, che figo, vedi che servivano, vedi, io lo sapevo, io lo sapevo, però non ho il legno, quindi non avendo il legno devo uscire di casa e andare a prendermi del legnetto, eh, vabbè, prendo quello che c'è qua, raga, tanto a me serve, ah, forse c'ho qualcosa qua? No, non ho niente qui, eh, a parte che no, aspetta, qua dentro c'ho gli spruce log, ok, niente, ho detto una capperata perché questi spruce log ce li ho e sinceramente me li tengo volentieri, ok, allora, piazziamo un attimino questa shulker da questa parte qua, tanto possiamo lasciarla qui tranquillamente, la facciamo così, stick e in teoria, ora facciamo l'anvil, facciamo solo le cose che si possono craftare, quindi due, tre, ok, facciamo così e mettiamo a fare l'anvil, esatto, era il contrario, perfetto, Enderite, anzi, aspetta, dobbiamo fare prima gli stick, stick fatti, anvil e enderite, così dovrebbe essere, giusto? Esatto, questo si chiama piccone di enderite, con questo piccone potrei utilizzare il potere delle enderite ogni 10 secondi per smaterializzare ogni blocco in un 5x5 dal blocco indicato. Che figata, questa cosa qui però dovremmo darla a Nico sicuramente perché, cioè, insomma, gliel'ho rubato praticamente, quindi sì, interessante questa cosa, oh mio Dio, ma quanti mob ci sono, vado a dormire, buonanotte, eh, sì, non mi sembra il caso di rimanere ancora troppo svegli, andiamo a nanna, e gli fa... Nico? Mi hai rubato il medaglione? Ti ho visto. C'è stato un problema, cioè... Qual era il tuo problema? Allora, ti spiego, le tuba... Sotto casa tua mi han detto che c'era... Passa il medaglione. Non so di cosa tu stia parlando. Non ho capito a prendere il tuo. No, 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 fermo, tu hai già preso qualcosa che mi appartiene. Ma non è vero! Ti ho sentito! Allora, allora, è colpa di Daphne. No, non è colpa di Daphne, sei stato tu a chiedergli quel crafting. Non è vero, io gli ho detto, sono andato lì, ho parlato, mi fa, ti sei trasferito, io per scherzare ho detto sì. Avevi in mano una spada? No. L'hai minacciata? Non ho minacciato nessuno, ma assolutamente, assolutamente, zero proprio. E il te l'ha regalato il crafting, quindi fammi capire. Mi ha detto, mi fa, ma ti sei trasferito qua? Io per scherzare ho detto sì, mi sono trasferito qua. E mi fa, va bene, allora ti do questo crafting al massimo e do lo tuo, Nico. E quindi lei crede alla prima persona che dice mi trasferisco qua? Sì, penso di sì. Cos'è quel coso? È il piccone in enderite. È il tuo piccone. Vieni che lo proviamo. Vieni me. Ma io vorrei capire, no, come l'hai fatto? Io capisco. Allora, due di enderite, una anvil e due stick. Ok, non era complicato, è stato più difficile. Io lo voglio! Eh, ma infatti è tuo questo qua. Ridammi il medaglione e te lo ridò. No, beh, il medaglione adesso lo devo tenere io, perché tu hai tenuto il mio crafting per una giornata. Ma una giornata sarà un po' di cinque minuti, sarà un passato. Ma stai sprecando il piccone e gli utilizzi per uccidere uno zombie. È ragione. Io ho questo. Come la mettiamo? Tu dammi quello, il mio te lo ce lo diamo. Ok. Io mi fido di te. Uno, due, tre. Ho il potere della Rigeneration io per ora. Ma l'hai piazzato, infatti stavo cercando di capire perché non riuscissi a prenderlo. Allora, quello, vabbè, dai, era un crafting facile, magari non era neanche quello finale. Sì, ma non mi sfondare la mia zona. No, hai ragione, questa verrà aggiustata da Brugumor. Brugumor. Lì, non so come si chiama. Il Brugumor. Comunque, ho scoperto cose. Cos'è scoperto? Ma non te le dirò. Eh, ho scoperto cose. No, adesso voglio saperlo. Ero in casa tu da un po' di tempo, ti stavo sentendo. E stavo anche parlando, ti dico solo questo. E stavi parlando? Sì, tu mi hai sentito parlare. Ti sei mutato? No, non ci si può mutare. Avevamo detto che non ci si poteva mutare, campione. Cosa hai combinato? Infatti non ci si può mutare. Lo scoprirai forse quel passare del tempo. Va bene. Io non ne so niente al momento. Bene ragazzi, ripiazziamo il medaglione all'interno di casa nostra e andiamo a fare le nostre cose. Però dove lo nascondo? Ma lo metto qua, guardo. Bam. Qua. Dove lo metto, raga? Non lo so, dai, non lo so. Qua lo metto. In bella vista. Via. Sono passati circa tre giorni dall'ultima clip che avete visto nel quale ho ingannato il mio caro amico Nico. Ma voi ingannate i vostri amici facendoli degli scherzi? Fatemelo sapere sotto nei commenti e magari vi racconterò qualche aneddoto carino delle cose che mi sono successe quando ero alle superiori. Perché anche alle medie, anche alle elementari. Io sono sempre stato veramente un burlone. Forse da questo che arriva Marci Burlone. Penso proprio di sì. Comunque ho giocato in questi giorni e ho fatto qualcosa di interessante che vi devo giusto mostrare. Perché all'interno del monumento oceanico sono andato avanti e ragazzi stiamo quasi finendo il nostro progetto incredibile. Ovviamente senza nederite ma mettendo anche dei dettagli molto particolari che vi voglio mostrare immediata subito. Andiamo subito a vedere questo il risultato che sono riuscito a portarvi oggi. Considerate che non è lungo, cioè non è difficile da fare, è lungo. Cioè perché praticamente dovete pensare al fatto che io magari parlo con i miei amici e nel mentre mi metto qua. Però voi direte Marci ma non ci vuole niente. Sì però non vi ho mostrato forse una piccola cosa e adesso ve la mostrerò subito. Spacchiamo subito questo pezzettino qua. Vado a fare così e vado a fare così. Io ragazzi sto rifacendo anche tutto il dentro, non so se l'avete capito. Cioè sto rifacendo tutto piano piano. Allora la cosa facile è che essendo che sono sempre gli stessi blocchi io ho ragionato in questo modo qua. Guarda adesso andiamo giù dove praticamente non ho ancora fatto niente. Io ragiono in questa maniera qua. Prendo un blocco, per esempio Questo qui so che ci va la polish cosa E cambio, quindi cosa faccio? Io faccio uno strato e cambio tutto Faccio un altro strato e cambio tutto Quindi secondo me avviene bene Poi, seconda cosa Marci, ma come mai ci sono così tanti blocchi di oro? Beh ragazzi, ho la farm di piglin Di pigmen, di piglin zombificati Non so come si chiamino Non decidetelo voi E avevo un sacco di blocchi d'oro a casa Ho detto, senti, iniziamo a salire per le costruzioni Che secondo me sono carini E questi qui praticamente sono i dark prismarine Dove c'era il dark prismarine Ho deciso di metterci l'oro Bene, apriamo una parentesi Io penso che in un po' di zone lo toglierò Nel senso che alla fine qua dentro non verrà mai nessuno Quindi l'ho messo perché tanto Ragazzi, per me i blocchi d'oro sono come fossero blocchi normali Quindi mi cambia realmente poco Però, sì, diciamo che mi piaceva tanto E quindi ho deciso di metterlo Però abbiamo anche un altro piccolo problema qua dentro Qual è il problema? È che qua sotto bisogna illuminarlo Solo che, sì, c'è questa roba qui della gravel Che è un problema Perché io vorrei arrivare a questo livello qua Ok? Cosa vuol dire? Che dobbiamo togliere tutta questa zona qua Quanto ci metteremo? 7 anni virgola 14 Perché virgola 14? Non lo so Non ne ho la... Sentite, state già rompendo voi, eh? E guarda che ti ho chiuso Ha 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 Ma ciao Ma ciao bellissimo Ma ciao bellissimo Pensavo di fare queste cose Nel mente vi raccontavo magari l'aneddoto che vi dicevo prima Riguardo alle superiori Allora, io c'è stata una volta Ma questo mi dà fisso Flint? Eh, capito Perché c'ho fortuna Dicevo No, voglio raccontarvi questa cosa che l'ho raccontata tempo fa Però non so se voi guardate i video vecchissimi Quindi probabilmente Molti di voi se lo sono persi Ah, peraltro Al posto del... Della sabbia ci voglio mettere il vetro Prima o poi penso che lo faremo Penso più poi che prima Però Ho fatto un disastro Ho fatto un disastro Non dovevo farla questa cosa Puoi andare su? Ce l'ho la sabbia Sì, devo chiudere Dicevo Quando andavo alle superiori Eh... Ho fatto una cosa un po' bruttina Praticamente c'era questa bidella qua Che mi sa stra simpatica Io vi sfido a dirmi Che non avete una bidella simpatica Nella vostra scuola È impossibile Le bidelle La maggior parte sono simpatiche E non... Cioè io ogni volta mi dico Ma perché fa la bidella? È troppo simpatica Poi dico Ma la bidella magari il suo lavoro È perfetta Sta con gli alunni È gentile È brava E peraltro poi Lavoro di tutto rispetto Perché peraltro C'ho un'amica Che adesso fa la bidella E... E niente Sta facendo carriera raga Adesso non ci crederete mai Ma questa mia amica Lei praticamente fa la bidella Ma stava studiando Per fare l'insegnante E quindi adesso Sta facendo la bidella Ma sta studiando Nella stessa scuola Per fare l'insegnante Cioè è incredibile Questa cosa Vabbè comunque Mi piacciono un botto Ste storie Quindi dicevo E... Niente Praticamente cosa è successo Un giorno Questa bidella Stasimpatica Era andata in ascensore Con dei miei amici Io Non potevo entrare Perché praticamente L'ascensore Sarebbe pesata troppo Ok Quindi fate che Il massimo Sono tipo 10 persone Lì eravamo in 11 con me E quindi sono stato fuori In realtà era tipo Massimo 3 persone Eravamo in 5 Però io sono sceso E sono rimasti In 4 dentro Più la bidella E che cosa ho fatto Io chiaramente Ho cliccato l'allarme E la bidella E i miei amici Sono rimasti chiusi dentro Per 5 ore Hanno dovuto chiamare Quelli della Cisa Si chiama tipo Insomma Quelli della Delle ascensori E io mi sono beccato Un bel richiamo Però è stato veramente Molto divertente Devo ammettere Che mi sono veramente Divertito parecchio E non mi sto divertendo Tanto però Fare questo piccolo lavoro Penso che lo faremo Off camera Perché È tanto Cioè pensavo di metterci Relativamente di meno Ma non è Così Non è così Non è così Ne approfitto però del fatto Per farvi vedere Che sto praticamente Creando tutte le shulker Di colore rosso Per mettere tutto quello Che mi serve Queste qui sono quelli Che sono riuscito a prendere Adesso La dark prismarine Raga Avevo l'inventario pieno E non l'ho presa Cioè non ho la dark prismarine Sappiate questo Bene Però voglio farvi vedere Anche un'altra cosa Allora Magari anche no Questo qui Perché mi serve Il flint In realtà possiamo anche romperlo Allora Questa zona qui Io ho deciso di rifarla Come ben notate Anche qua c'era la concrete nera Ma di fare che Sono un pochettino casuali i blocchi Quello non l'ho fatto Perché non ciò vuole di ritogliere tutto Ma guardate qui Ho utilizzato Il crackhead Prismar E il crackhead Polished Blackstone brick Un nome più lungo Non poteva esistere Ma l'ho fatto E ho utilizzato anche un po' Tanti altri blocchi Polished Polished blackstone Polished blackstone bricks Insomma un po' tutto E secondo me Dà un effetto carino E devo dirvi la verità Che la blackstone Con la deep slate Non è male Non è male per niente Ma quello che volevo dirvi È che voglio mettere In queste zone qua Quindi a distanza Di uno dall'altro Qui ci voglio mettere l'oro Secondo me ragazzi È una hit Incredibile Adesso ci proviamo Lo facciamo ovunque E vediamo un pochettino Come viene Perché secondo me Raga Merita veramente tantissimo Questa zona fatta così L'oro comunque Dite quello che volete È uno di quei blocchi Che secondo me Ha veramente senso Perché qua Mannaggia Qui avevo sbagliato Non me ne ero accorto Meno male che me ne sono accorto adesso Dicevo L'oro secondo me È un blocco incredibile Cioè è un blocco che A livello di build È un po' sottovalutato Perché secondo me Se hai la farm d'oro Alla fine ci può stare Perché Non c'è Raga Abbiamo un problema Abbiamo un grande problema Vuol dire che Alcuni non erano divisi da due Ah Vado a vedere Eccolo qua Ho già beccato Quello che era diviso da tre Ma ci vuole tanto Marcia A fare le cose fatte bene Due 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 Ok Due E due E due Perfetto Ce l'abbiamo fatta Voglio vedere da sopra Come sta Vediamo Magari Bocchiamoci con l'acqua Che bella questa cosa Bravo Marcia Bellissimo 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 Bisogna però ben capire Dove mettere la nederite Chiaramente Perché la nederite In qualche modo Bisogna risaltarla Quello che ho pensato Ascoltatemi bene È che La zona qua sotto L'obiettivo serve Farla tutta di nederite Sono troppi blocchi Lo so Però immaginatevi Che figo deve essere Raga Che qua diventa Tutto Completamente Di nederite Secondo me è bellissimo Se no Stavo pensando di mettere Dei dettagli Che però magari Decidete voi Adesso facciamo un'ultima cosa Ci vediamo Stasera Penso Per me Per voi Non lo so Quando sarà Non lo so E cerco di fare almeno Tutti gli ultimi due strati qua Scuri E almeno intanto Tolgo tutta questa schifezza Perché è inguardabile Va bene Mi metto subito All'opera Ho una piccola sorpresa Per voi Perché ho lavorato tanto Considerate che è abbastanza tardi E non penso di poter urlare Più di così Infatti sto parlando vicinissimo Al microfono Ma ho una sorpresa Pazzesca per voi Siete pronti Mi giro Beh sicuramente Molti di voi avranno pensato Marci ma perché non usi Il copper block Che è quello che stai utilizzando Di più all'interno Della tua steampicraft Eh sì Eh sì Avevate ragione Guardate che figata Che è venuta fuori Ragazzi Incredibile È dir poco È vero C'è un po' troppo oro Me ne rendo veramente conto Ma guardate che bella Quella parte lì È incredibile raga È veramente Veramente incredibile Se posso dirvi la mia Mi piace tantissimo E sì Abbiamo semplicemente Sei blocchi di nederite Compresi due di là Che ho tolto ovviamente Ho messo lì Fatemi sapere cosa ne pensate Lì avevo finito il copper Fate finito di non aver visto E fatemi sapere sotto nei commenti Se vi piace Perché secondo me Dettagliarlo bene Tra copper E tutto il resto Viene una cosa Pazzesca Immaginatevi Dove vedete Tutti quei blocchi Di polished Deep straight Fatto col copper Che pazzescaggine Che verrà fuori Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti